Chi conosce Ello descrive questo piccolo paese dell'Ecchese con i colori della tavolozza di un pittore l'azzurro del cielo e del lago di Annone, il rosso e i marroni dei tetti delle case, il verde dei prati, i verdoni Torniamo indietro di oltre mille anni prima di Cristo, reperti storici testimoniano che questa zona era una zona di fabbri mercanti di fabbri che forgiavano le loro armi e poi si spostavano per venderle e appunto per questo lungo i percorsi, lungo le strade che più frequentavano Avevano dei nascondigli dove tenevano le armi, dove tenevano gli attrezzi da lavoro Uno di questi nascondigli è stato trovato proprio qui a Ello e i reperti si trovano nel museo di Como Ello è nota per le tante ville ottocentesche che ha, una è Villa Montecuccoli e Villa Montecuccoli prima che fosse abitata dai conti Montecuccoli era stata abitata dai conti Annoni i conti che hanno dato il nome al lago di Annone Dalle 1934 Villa Montecuccoli è di proprietà delle suore della riparazione e questa villa è la villa che ci ospiterà oggi con la superiore madre Adele e la sua comunità di suore anziane Noi siamo le suore della riparazione, nate circa 150 anni fa e fondate da padre Carlo Saleri e madre Carolina Arsenigo precisamente il 2 ottobre Quante suore anziane, suore della riparazione, sono ospitate in casa San Giuseppe qui a Adello? In tutto siamo 41 sorelle, 15 delle quali completamente inferme altre 15 semi-inferme, cioè sono autosufficienti il resto sono persone che aiutano in casa, tra cui le infermiere che sono a loro volta aiutate da un personale infermieristico laico La sua sorella dice che è laureata in farmacia? Sì Ma non ha mai venduto le medicine? Sì, 10 anni Dove? Sono entrata a 34 anni perché c'era la guerra, non potevo, eravamo tutti mobilitati in farmacia, non potevo lasciare allora finita la guerra, sono entrata in convento insieme a loro Come ha sentito la vocazione? Ma proprio da dire che si senta la vocazione però sei lì questo che non ti va, sei lì quest'altro che non ti va l'unico è il Signore che la paga sempre Cioè tutto il resto non la pagava? No Ma per il momento sì, perché facevo tutto con... tutto volentieri, diciamo però dopo finita la giornata sentivo che avrei voluto essere come loro Come le sue sorelle maggiori Sì Senta, e adesso invece la sera quando va a letto si sente contenta, a parte gli acciacchi? Sì, sì, mi sento contenta, tranquilla prego per tutti quelli che sono già andati lontano e prego per quelli che mi sono rimasti Lontano cosa vuol dire in paradiso? Sì Perché non dice questa parola? Quando l'avrò visto lei verrà a dire qualcosa Le fa paura parlare della morte? Anche un po' Quando sono stata all'ospedale mi hanno detto che mi hanno portato che ero più morte che viva e io speravo di andare e invece non sono andata Perché sperava? Perché a un certo punto le gambe sono stanche Beh, ma lei basta che non cammina Adesso non cammino più Appunto, dico non è stanca perché tanto non deve camminare Beh, è una stanchezza interiore Senta, è stata contenta quando sua sorella è venuta qui a stare con lei? Quando ha voluto diventare suora? Tanto Ci hanno unito nella stessa casa Sì, casa E così che ogni tanto ci trovava insieme E erano pochi minuti ma tanto belli Ma non avete mai litigato voi due? No No, non è vero Non esistono i litigi in casa vostra? Davvero, non abbiamo mai litigato Che cosa le piace? Ci vogliamo troppo bene Come? Ci vogliamo troppo bene Senta, che cos'è che le piace di più di sua sorella? Beh, tutto Madre Giovanna, ci faccia capire bene il carisma delle suore della riparazione Cosa vuol dire riparazione? Riparazione vuol dire che c'è qualche cosa di disfatto, di distrutto, di rotto da mettere a posto Dove? Siccome noi siamo nel campo spirituale capiamo che la rottura, la frattura è stata data dal peccato Perciò riparare vuol dire mettersi in spirito di riparazione per quello che è il male del peccato Ciò vuol dire che tutto quello che fate lo fate per riparare il male che fanno gli altri nel mondo? Non soltanto quello degli altri, prima di tutto il nostro Perché tutti siamo peccatori quindi dobbiamo tutti metterci nel numero Riguardo all'adorazione, c'è stabilito tutto un turno che va dalla mattina fino alla sera Finché siamo state numerose, facevamo l'adorazione anche di notte Per cui c'è uno sempre su un inginocchiatoio che sta davanti al tabernacolo Ma voi non siete sore contemplative? Lo spirito dell'istituto vuole contemplazione e azione E la nostra madre fondatrice diceva che noi dobbiamo fare del nostro tabernacolo un cuore Per cui noi dobbiamo sempre essere in questo spirito di adorazione anche mentre lavoriamo Vengo riverente e adorante alla tua presenza per farti riparazione di ogni trascuratezza, dimenticanza e offesa Ti chiedo innanzitutto perdono delle mie mancanze, della debolezza della mia fede Dello scarso zelo ed impegno nell'adorarti insacramentato e nel partecipare alla tua cena L'intervista è fatta a quale scopo? L'intervista è fatta allo scopo di far conoscere le suore della riparazione Ma soprattutto per far conoscere quello che pensano le suore anziane Ah sì? Ecco per esempio Se lo diciamo? E io vorrei che lei lo dicesse se può essere utile a chi ascolta Sì, come vuole insomma, basta che le domande siano belle Non so se faccio domande belle, però una cosa che mi incuriosisce è che voi avete trascorso tutta la vita a fare delle belle cose interessanti per gli altri, quindi siete stati utili Adesso non vi sentite inutili? No, non ci sentiamo inutili perché abbiamo una certa età in cui si dice volentieri lasciamo il passo agli altri che vengono Allora il segreto per essere soddisfatti è quello di trascorrere una bella vita serena Di fare delle belle cose, darle agli altri? Ha dimenticato una cosa importante Cercare di fare del bene, di fondere il bene E cercare di rasserenare gli altri Asciugare qualche lacrima se c'è bisogno Quindi essere ancora un dono per gli altri Allora noi per non essere scontenti, per non avere paura di invecchiare dobbiamo pensare al Signore Bisogna pensare prima di tutto di vivere in grazia di Dio Madre, lei come si chiama di nome? Andreina A casa e in convento E in paradiso come si chiamerà? Andreina ancora, ci saranno tutti i miei amici in paradiso Tutti mi chiameranno Andreina, anche loro Lei mi sembra giovane negli occhi Anche nell'età penso, anche un pochettino Quanti anni ha? 78 E quindi è giovane rispetto alle altre? Certo, certo, sono contenta anche di essere abbastanza giovane Non vuole invecchiare lei? No, no, no Nella Bibbia i salmi sono un'antologia di canti e preghiere che nel Tempio di Gerusalemme venivano accompagnati da strumenti muscolari Il più grande poeta religioso di Israele fu Davide A lui infatti è attribuita la composizione della maggior parte dei salmi Il salmo 70 è un canto di domanda al Signore da parte di un vecchio Il vecchio dice Signore stammi vicino perché vengono meno le mie forze, mi sento debole Don Francesco, come commenta questo salmo? Questo salmo va letto nel contesto di tutto il salmo O meglio, questa frase va letta nel contesto di tutto il salmo Dove protagonista non è la persona, il vecchio, ma protagonista è Dio Quindi questo dà già tutta una prospettiva diversa sulla vecchiaia Da come noi tante volte la vediamo oggi Ogni cosa è vista in relazione a Dio L'anziano dice Mi hai fatto quasi un prodigio Proprio alla luce di questa frase Dobbiamo leggere l'altra che lei ha citato Perché quasi in sintesi L'anziano legge tutta la sua vita Sempre messa in relazione con Dio Che dà contenuto, dà forza ad ogni momento della sua esistenza La persona sicuramente conta di più che non oggi Oggi come vediamo l'anziano La mia esperienza in una casa di riposo con 180 ospiti Mi porta a vedere delle persone che dicono A che cosa è servita la mia vita Cosa sono qui a fare Perché il Signore non mi tira là Non servo più a niente Il salmo Non legge assolutamente la vita in questo modo Legge la vita come qualcosa di bello e di prezioso Che non ha mai momenti di pausa Di momenti in cui uno dice Non servo a niente Lo legge, io farei questo paragone Lo legge come il sole Il sole che è lo stesso Sia quando sorge Quando splende a mezzogiorno O quando è sera Dà prospettive completamente diverse Ma il sole rimane sempre se stesso Così è la vita dell'anziano Che nel suo nascere Nella sua pienezza Nel suo morire E comantiene sempre integra la sua personalità Se è unita al Signore Di cui Lui è l'immagine Ecco, vede come ritorna questo concetto Mi hai fatto quasi un prodigio Non c'è il momento del decadimento C'è il momento D'esprimere la bellezza della vita In ogni sua espressione Signore Non mi respingere nel tempo della vecchiaia Non abbandonarmi Quando declinano le mie forze Eccellenza Le suore della riparazione Sono suore che ci hanno meravigliato Per la loro serenità Mi riferisco alle suore anziane Che sono giunte al riposo Hanno lasciato la vita attiva Adesso sono al riposo Potrebbero sentirsi scoraggiate E invece sono serene Secondo lei, perché? Ma innanzitutto Il particolare estrinseco Vivono nella pace Nella serenità Di questo bellissimo luogo Questo paese Di Ello Sopra il lago di Annone Vincino al Monte Barro E al lago di Lecco E quindi certamente Il risiedere qui Contribuisce a dare Un tono di serenità Perché il paesaggio L'ambiente La gente Sono di accoglienza E di aiuto A vedere in positivo Le vicende della vita Ma poi senz'altro Trattandosi di persone Religiose consacrate La prospettiva generale Della vita Aiuta Quando una vita È pensata Ed è spesa In risposta A una chiamata In un cammino Che ha un senso Un significato Plausibile Che va in una direzione Nota Nella fede Nella speranza Nella fiduzione Del Signore Che con la sua resurrezione Ci ha dato garanzia Per il cammino Per la nostra resurrezione Per la vita eterna Allora anche Il declinare Anche Il andare Nei momenti Difficili Del termine L'esistenza È collocato Dentro un contesto Di serenità E di una vita Appunto significativa Per sé Non è soltanto Il problema Delle persone consacrate Di religiosi Anche I battezzati I laici Le persone Pensose Di buona volontà Possono vivere In questa prospettiva Di una vita Che ha un significato Ha un obiettivo Ha una direzione Che rende Meno difficile Più accettabile Anche il contesto difficile Allora questo significa Che chi non accetta La vecchiaia È perché Un po' Ha banalizzato La sua vita Ha dato valore A delle cose Un po' superfi Un po' superficiali Sì Non possiamo generalizzare Perché Centrano anche i caratteri Centrano anche le condizioni esterne Centrano la condizione fisica La salute Però certamente Il riuscire a dare Un senso All'esistenza presente E una prospettiva Positiva Per il cammino futuro E per il senso Di quello che c'è Anche dopo la morte Possono indubbiamente Aiutare A vivere A vivere serenamente Io dico Certamente Rispettiamo anche Coloro che pongono Serena accettazione Della vita In un significato Reperito anche altrove Rispettiamo ogni altra idea Però certamente La fede Aiuta in modo Particolarmente significativo A dare significato Ripeto A questa esistenza L'esistenza futura C'è chi Anche per fede Sceglie di morire E di far del male Lei cosa pensa? Dei kamikaze per esempio Pur nel rispetto Di ogni esperienza Di ogni idea Dobbiamo sottolineare Il principio generale Di una vita E di una fede Che sia sempre preoccupata Del bene Del bene vero Del bene comune Del progresso di tutti Della serenità Della pace E quindi Non riusciamo a immaginare Come questi gesti Si tratta di terrorismo O cose di altra natura Possono comporsi E quindi qui si tratta Di aiutare la gente A rispettare Le proprie convinzioni Essere fedeli Le proprie convinzioni Ma in un contesto Di rispetto Per le convinzioni Degli altri Per la condizione Di pace Di serenità Di dialogo Di vicendevole accoglienza Se non ci sono queste condizioni Non è vera religione Questo non tocca a noi dire Ci poniamo Su un livello diverso Di discorso Anche nelle migliori condizioni Se vissute in modo Improprio Sbagliato Possono dare Adito A comportamenti Sbagliati Ma comportamento Sbagliato Per sé Non dice Dello sbaglio Eventuale Dal punto di partenza Teniamo livelli distinti Per cui noi diciamo Che per vivere Nella vicendevole accettazione Bisogna avere una certa idea Della persona Della persona umana Della sua dignità Del rispetto Della vita Di ogni persona Del bene comune E anche della convivenza civile Il bene comune Chiede che insieme Con i diritti Di ciascuno Si salvaguardino I diritti della comunità Con la sicurezza La libertà Con la giustizia La solidarietà L'esigenza Di consentire Anche Quel cammino Quella concorrenza Quel mercato Di cui parla Mercato sociale Di cui parla anche Il Santo Padre Nel Centesimo Sannos